Ciao da Absim, vi parlavo della questione della Superlega spiegando che dal mio punto di vista un tifoso della Juventus potrebbe tranquillamente oggi, oggi, sostenere le ragioni della Superlega, essere d'accordo con il progetto Superlega, essere contrario alla UEFA, all'establishment, a come funziona la UEFA, a tutte le competizioni, sperare che la Superlega prenda vita, prenda forma, si sviluppi come competizione, soppianti magari la UEFA, Può tranquillamente avere in totale antipatia Ceferin e in totale simpatia Agnelli, ma il tifoso della Juventus oggi non può consapevolmente sovrapporre le ragioni della Superlega a quelle della Juventus e considerare la Superlega un affare della Juventus. Perché non è così, perché la Juventus fa parte della Superlega, perché la Juventus è stata trascinata da Andrea Agnelli nella Superlega, ma stiamo parlando di ere geologiche fa, sono passati solo due anni, ma è cambiato veramente tutto. C'era Pirlo in panchina e lottavamo per un posto in Champions, poi è arrivato Allegri con cui dovevamo vincere lo Scudetto e così non è stato e così non è pure quest'anno. Nel frattempo ci sono state le dimissioni di Agnelli di tutto il CDA e tutti i processi che stiamo vivendo adesso, con la Juve che non sa neanche in che competizione nazionale giocherà l'anno prossimo, perché lo spettro della Serie B c'è comunque e poi, vabbè, se non dovesse essere Serie B, come è comunque più probabile perché è un'ipotesi marginale la retrocessione, potrebbe essere una bassa classifica, potrebbe essere comunque un'esclusione dalle competizioni europee. E stiamo parlando di un'esclusione dalle competizioni europee al di là del piazzamento in classifica di Serie A della Juventus, proprio come possibile sanzione della UEFA, che sta, tra virgolette, ricattando la Juventus e anche il Barcellona, se fate un passo indietro dalla Superlega, allora vi trattiamo bene, perché senza nessun input da parte della UEFA, cioè senza che la UEFA abbia fatto nulla e abbia dovuto fare nulla, il Barcellona e la Juventus da sole si sono trovate in guai giudiziari. Sul Barcellona possiamo anche provare a maliziare, perché si tratta di una questione che andava avanti da anni ed è venuta fuori solo adesso. Erano anni che il Barcellona pagava quella società, però questa cosa è emersa appunto tardivamente, potrebbe esserci stato qualche input, diciamo, politico, per far emergere la storia di sostanzialmente un'inchiesta giornalistica, ma per quanto riguarda la Juventus non possiamo proprio citarlo Ceferin. Cioè Ceferin chiaramente non ha fatto assolutamente nulla, perché l'inchiesta è partita da organi nazionali per motivi pratici, cioè per una questione proprio di bilancio. Sono soprattutto i rilievi della CONSOB che hanno acceso la luce e che hanno aperto, hanno acceso quindi i riflettori sulla Juventus. Però comunque si tratta di due squadre che sono in difficoltà giudiziarie e quindi per evitare sanzioni che la UEFA potrebbe combinare ad entrambe, si dice uscite dalla Superlega e saremo più buoni. Ma uscite dalla Superlega e saremo più buoni, non restate in Superlega e saremo più cattivi. Se restate nella Superlega noi saremo cattivi il giusto, cioè appliceremo le norme così come sono previste. Se uscite dalla Superlega può valere diciamo come una sorta di accordo, come una sorta di patteggiamento e quindi chiudiamo un occhio. Ma è una cosa che non è qualificabile realmente a mio avviso come un ricatto. Poi se la si vuole considerare come un ricatto, è un ricatto tra virgolette giustificato dal fatto che la UEFA vuole applicare la legge in vigore e questi club, Juventus e Barcellona oltre a Real Madrid, vogliono disapplicare la legge in vigore e andarsi a fare la Superlega che ad oggi è illegale. Ora stiamo parlando di scegliere tra Superlega e sanzioni UEFA. Credo che qualsiasi Juventino dotato di razziocinio, qualsiasi Juventino che ci tiene veramente alla Juve e che è collocato spazio temporalmente nella realtà che ci circonda, preferirebbe restare, uscire dalla Superlega per evitare delle sanzioni UEFA. Quindi dare ragione alla UEFA perché tanto la Superlega non si sa neanche se si farà, se si farà non si sa se la Juve avrà la competitività necessaria per parteciparvi, non si sa tra quanto tempo si farà e nel frattempo siamo nei guai. Quindi la Superlega e tutte le cose più belle del mondo, riformiamo il calcio europeo, riformiamo il calcio mondiale, vengono decisamente dopo. Ma ripeto, non sono affari strettamente legati alla Juventus. Che poi Andrea Agnelli sia dentro l'organizzazione della Superlega, sia una sua idea e abbia trascinato dentro pure la Juventus, è un discorso a parte che a mio avviso fa distinguere chiaramente tra gli Juventini veri e gli Juventini veri falsi che in realtà sono prima di tutto Agnelliani. Cioè dire io preferisco restare nella Superlega e beccarmi la sanzione della UEFA perché voglio restare nella Superlega significa essere Agnelliani oggi, oppure non aver capito bene come stanno le cose. Perché se capisci bene come stanno le cose dici no aspetta un attimo va bene tutto la Superlega però mi piace eccetera se la facciano gli altri ci pensi Florentino Perez noi dobbiamo uscire poi magari rientriamo ma intanto dobbiamo uscire perché dobbiamo salvare il salvabile. Altrimenti poi qui si sta dicendo che si deve evitare assolutamente la Serie B che dobbiamo giocare malissimo però dobbiamo fare sempre i tre punti perché sennò siamo disperati quindi sacrifichiamo la valorizzazione dei giocatori, l'apprezzabilità del gioco, la qualità del gioco l'estetica anche se vogliamo che non è da buttare via, lo spettacolo, la crescita sportiva, il progetto sportivo e tutto quanto sull'altare dei tre punti disperati perché sennò ci retrocedono poi però vabbè UEFA sanzionaci abbiamo fatto tutti i punti possibili siamo arrivati secondi però va bene UEFA toglici dalla Champions League ma non mi toccare la Superlega ma che cosa stiamo dicendo? Ma questa è follia pura e se non è follia è agnellianesimo cioè sono persone che sono al seguito di Andrea Agnelli, fanno quello che vuole Andrea Agnelli fanno quello che dice Andrea Agnelli e di conseguenza sragionano e vanno contro la Juve cioè ormai stare dalla parte di Agnelli e stare contro la Juve è questo esempio la situazione della Superlega è lampante da questo punto di vista senza contare che stiamo parlando anche di Beke di famiglia dove Agnelli vuole una cosa e Elkan ne vuole un'altra e veniamo allora al discorso del patteggiamento per la manovra stipendi patteggiamento che non esiste con questo termine nella giustizia sportiva, nel diritto sportivo ma sostanzialmente possiamo semplificare e chiamarlo patteggiamento che si può proporre da parte dell'incolpato anche prima del deferimento ci sono ovviamente come anche nel patteggiamento penale dei termini massimi entro i quali in base alla fase di svolgimento del procedimento si può fare questa proposta di applicazione della pena su accordo delle parti oltre quei termini non si può più fare e si va a processo quindi la Juve ha ancora poco tempo in attesa dei predeferimenti e dei deferimenti di chi ne è della procura FGC per decidere se patteggiare non si sta tanto parlando di patteggiamento e questa cosa l'ho già sottolineata e non è molto gradevole perché il problema qual è? il problema è che la Juventus dovrebbe aver capito i legali della Juventus che sono esperti che si dice che siano esperti, si dice che siano molto bravi che con la manovra stipendi si va semplicemente a sfracellarsi contro uno scoglio non c'è scampo, cioè con la manovra stipendi le penalizzazioni le prendi per forza perché le violazioni sono talmente tante e potenzialmente tutte gravi che non possono chiudere un occhio non possono fare finta di nulla poi tutto può essere, però è veramente un rischio molto molto grande di avere tanti punti di penalizzazione che potrebbero, a quello che sappiamo oggi, sommarsi a quelli delle plusvalenze quei 15 punti che pendono, che potrebbero essere confermati oppure restituiti il prossimo 19 aprile e infatti il 19 aprile è la data più importante della storia recente della Juventus il 19 aprile 2023 perché da quello dipendono i rinnovi che la società, che la dirigenza ha rimandato tutti quanti a dopo la reale posizione in classifica e anche la strategia difensiva successiva perché posso anche immaginare che se alla Juve vengono restituiti i 15 punti la società dice vabbè, giochiamocela a viso aperto anche sulla manovra stipendi perché tanto, comunque, almeno i 15 punti ce li hanno restituiti quindi anche se rischiamo e rischiamo tanto magari con il processo ne usciamo anche puliti perché fondamentalmente con il patteggiamento la pena la concordi e quindi ti viene applicata cioè non puoi uscire assolto da un patteggiamento non esiste vieni comunque condannato è comunque una forma di condanna con un accordo su quella che deve essere la sanzione però restituiti i 15 punti magari è inutile che andiamo a patteggiare se invece ti danno già, ti confermano questi 15 punti anche il collegio CONI tu devi fare il conto dei 15 punti più il resto e allora vai a patteggiare per dire senti, facciamo che in totale sono 20 facciamo che in totale sono 25 e basta, finisce sta storia e poi si vedrà il piazzamento finale in classifica quindi ci può anche stare che non si stia parlando tanto di patteggiamento perché può essere una strategia successiva al 19 aprile e qui fatemi dire che la storia per cui Kine si attarda per cui la giustizia sportiva che è stata incredibilmente solerte e sommaria nella sentenza di primo grado delle plusvalenze e ci si è lamentati di questo diventa adesso incredibilmente lenta perché Kine ancora non ha fatto i deferimenti e come potete ben vedere un assist alla Juve perché se Kine avesse già fatto i predeferimenti e fosse magari già scattato il termine ultimo per il patteggiamento la Juve si sarebbe trovata potenzialmente nella situazione per cui avrebbe dovuto scegliere se patteggiare o no per la manovra stipendi all'oscuro della decisione finale del collegio CONI sui 15 punti e quindi magari autodanneggiandosi invece in questa situazione la Juve è serena perché dice vediamo prima i 15 punti e poi decidiamo se patteggiare o no ma quello che stiamo apprendendo sul patteggiamento è che probabilmente John Elkan è favorevole e Andrea Agnelli è contrario anzi di sicuro sappiamo che Andrea Agnelli è contrario perché lo hanno riportato diversi giornalisti possiamo immaginare con fonte diretta Andrea Agnelli o persone a lui vicine che oggi rappresentano il suo volere la sua immagine, il suo pensiero non so onestamente chi siano e quindi se Agnelli è contrario al patteggiamento Agnelli può essere contrario ma per se stesso cioè perché qui poi stiamo parlando di più soggetti che sono imputati nel processo sportivo che saranno forse imputati nel processo sportivo la società Juventus con cui Agnelli non c'entra più nulla se non come proprietario ma proprietario insieme a tanti altri quindi non è rilevante e poi Agnelli e gli altri singoli dirigenti ognuno per conto proprio con la sua strategia, con la loro strategia e i loro difensori se Agnelli non vuole patteggiare per se stesso l'inibizione problemi suoi buon per lui vada avanti e magari viene assolto a noi non interessa nulla anche perché l'inibizione di Agnelli è una cosa che deve scontare lui personalmente e che non comporta più nulla per la società Juventus ma se Andrea Agnelli è contrario al patteggiamento della società Juventus al di là che appunto non ha più potere decisionale sta cercando di danneggiare la Juve per caso? no perché se Agnelli è contrario al patteggiamento e non si patteggia perché Agnelli è contrario perché si sceglie questa comune strategia difensiva o in ogni caso si decide di non patteggiare e a fronte di uno sconto significativo di pena si va a prendere una pena pesante 40 punti come si è detto o 30 punti dopo chi paga le conseguenze? le paghiamo noi tifosi le paga la squadra le paga la Juventus ma dovrebbero pagarle lor signori chi decide di non patteggiare è chiaro che qui parliamo di una responsabilità grande quanto una casa ma la dirigenza lo sa è una dirigenza intelligente avveduta poi possiamo discutere su tante scelte e stiamo ancora cercando di capire realmente come la pensi questa dirigenza su certe cose ma è una dirigenza non sprovveduta diciamo così per cui possiamo ben immaginare che abbiano messo in conto il rischio e chiaramente lo stiano tenendo in considerazione sia per quanto riguarda i tifosi sia per quanto riguarda i tesserati per quanto riguarda i giocatori gli investimenti i soci gli azionisti l'eventuale vendita della società o di parte delle quote della società l'eventuale dei listi cioè stanno tenendo in considerazione una marea di cose che per questo anche per questo li distoglie dal campo e da tante questioni che sono più vicine al tifoso quindi io su questo voglio anche essere paziente e fiducioso nei confronti della dirigenza ma dobbiamo tenere conto che il patteggiamento rischia di essere la via d'uscita migliore la via d'uscita migliore per la Juventus e anche qui torniamo al solito discorso al discorso meglio al discorso che ho fatto prima cioè il tifoso della Juventus cosa deve sperare? deve sperare di avere meno punti di penalizzazione possibili come tifoso poi come cittadino come dico sempre deve sperare nella legalità nella giustizia nell'equità e nella non impunità va bene essere assolti ma assolti nel merito non assolti perché sostanzialmente impuniti per un vizio di forma o per un errore di qualcuno perché ancora nelle partite di calcio estremizzando possiamo accettare il godimento l'esultanza e la felicità per una vittoria sporca totalmente immeritata perché poi ci sarà un'altra partita in cui dovrai meritare e se non meriterai e demeriterai magari perderai ma nella giustizia dove la sentenza sostanzialmente è una la decisione per un caso è una non si può ripetere non possiamo accettare la speranza e il tifo per l'impunità cioè usciamone assolti e puliti come sia sia anche se siamo colpevoli che se ne frega quindi è chiaro che da cittadino prima di tutto la legge da tifoso speriamo di non retrocedere speriamo di avere meno punti di penalizzazione possibili e quindi speriamo di patteggiare cioè perché il tifoso dovrebbe essere contrario al patteggiamento il patteggiamento sostanzialmente non è una missione di responsabilità non è mai una missione di responsabilità non ci si assume mai la responsabilità con il patteggiamento perché altrimenti non sarebbe un patteggiamento sarebbe una dichiarazione di colpevolezza che è un'altra cosa invece nel patteggiamento si dice io non ti dico se sono colpevo non mi dichiaro colpevole non è questo il punto però per una convenienza mia perché magari non ho prove a sufficienza perché voglio far presto perché voglio far presto perché anche questo il patteggiamento ti chiude tutto subito non devi fare tribunale non devi fare corte non devi fare collegio cioè non devi fare i tre gradi e non devi fare il tar il consiglio di stato che sono 4-5 gradi si va avanti per mesi ma finisci subito prima ancora di iniziare già a fine aprile o inizio maggio sai qual è la soluzione definitiva per tanti motivi puoi essere invogliato stimolato incentivato necessitato a fare il patteggiamento non è una missione di responsabilità quindi perché il tifoso della Juventus dovrebbe essere contrario perché perché con il patteggiamento hai una pena sicura mentre senza patteggiamento potresti essere assolto credete veramente che la Juventus possa essere assolta no al di là dei piagnistei e delle manie di persecuzione nei confronti di qualsiasi istituzione che poi mi fa ridere perché Agnelli di recente da presidente disse noi come Juventus siamo sempre e a prescindere dalla parte di chi governa dalla parte del potere andatelo a spiegare Agnelli vallo a spiegare ai tuoi ai tuoi adepti vallo a spiegare ai tifosi i juventini veri i juventini puri che invece sospettano e maliziosamente di chiunque cioè tutte le istituzioni ce ne hanno con la Juve capisco ripeto la sfiducia nelle istituzioni ma è impensabile è impensabile che la Juventus vada serenamente naviga serenamente verso una soluzione sulla manovra stipendica naviga serenamente verso una condanna e poi appunto ci si lamenta anche che ci sono le anticipazioni della procura FGC 40 punti da parte di Corriere dello Sport e neanche va bene l'anticipazione oh vuole 40 punti poi però non le si prendono in considerazione cioè se sono anticipazioni fedeli di cui ci si lamenta perché non sono spifferi che non dovrebbero uscire nel momento in cui escono coglili dice ah cavolo 40 punti andiamo a patteggiare che poi potrebbe essere proprio una strategia di averli fatti uscire di aver fatto uscire questa indiscrezione per spingere la Juve a patteggiare ma la Juve non è stupida da questo punto di vista ripeto quindi non è che si fanno intimorire dai 40 punti che sono stati pubblicati da Corriere dello Sport sanno molto prima molto bene e molto prima loro come stanno i fatti se vogliono arrivare ad avere uno spiffero dalla procura FGC la Juventus lo può fare perché il loro lavoro in questo momento è anche quello di cercare di avvicinare di avvicinarsi agli ambienti della procura della decisione per iniziare ad approcciare anche in funzione di un patteggiamento c'è bisogno di leggerlo sui giornali su Corriere dello Sport quindi quello può spaventare più il tifoso che dice ok patteggiamo patteggiamo se no ci danno 40 punti ma tanto il tifoso non decide io dico semplicemente l'approccio sereno che si dovrebbe avere non è possibile oggi come non è possibile oggi secondo me considerare la Superlega una questione della Juve e quindi sperare di rimanere in Superlega a costo di beccarsi della sanzione UEFA non è pensabile oggi sostenere che le intenzioni di Agnelli le ragioni di Agnelli siano cosa di interesse della Juventus coincidano con le ragioni e le esigenze della Juventus al punto di dire non patteggiamo anche al costo di beccarci la sanzione più ampia possibile perché poi lì mi dovete venire a spiegare che tifoso è uno che fa un ragionamento del genere premesso che a me non interessa distribuire patenti di tifo ma visto che vengono distribuite da queste persone che si ergono a Juventini veri Juventini puri non sei Juventino se sostieni la Superlega a discapito delle esigenze della Juventus e sostieni il non patteggiamento a discapito delle esigenze della Juventus ma ripeto veniamo da anni di gestione Agnelli che è stata a tratti malsana tra i danni di Agnelli c'è proprio questa sovrapposizione di Agnelli con la Juventus Agnelli è la Juventus e la Juventus è Andrea Agnelli cosa da cui dobbiamo discostarci ma evidentemente servirà tempo servirà lavoro servirà pazienza e forse queste situazioni di out-out possono essere già un primo passo verso una liberazione da questa mentalità chiudo dicendo che se siamo ancora ripeto vittima delle beghe familiari per cui John Elkan vuole patteggiare per fare un danno ad Agnelli Agnelli non vuole patteggiare per fare un danno a John Elkan capite che la liberazione della Juventus non è solo Agnelli out e ci siamo Allegri out e speriamo presto ma anche famiglia Agnelli out ex or out liberiamoci cerchiamo di andare nelle mani di qualcuno che pensi realmente al bene sportivo economico culturale della Juventus perché da troppo tempo ci si pensa veramente poco ecco già è solo il fatto che Agnelli abbia fatto il padre padrone cacciando Sarri prendendo Pirlo cacciando Pirlo prendendo Allegri tutta a sua convenienza tutta a suo interesse a sue esigenze facendo un quadriennale ad Agnelli e abbia trascinato la Juve nella Superlega sarebbe stato sufficiente a farci capire quanto la condotta il comportamento di Agnelli sia stata sia in contrasto con le esigenze della Juventus altro che sovrapposizione per questo il bene della Juventus forse sta da un'altra parte ma di questo continueremo a parlare grazie per la vostra attenzione like al video se vi è piaciuto altrimenti dislike iscrivetevi se volete continuare a seguirmi altrimenti non iscrivetevi o disiscrivetevi abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi altrimenti se non volete vantaggi non fatelo quindi non abbonatevi per sostenervi ma abbonatevi se volete dei vantaggi concreti che vi offro mensilmente e quotidianamente e seguitemi anche sul mio secondo canale Avsimout primo link in descrizione per video brevi sul calcio altrimenti non seguitemi e ci vediamo molto presto